Siamo in piazza per manifestare il nostro sostegno alla causa palestinese, al popolo palestinese. Siamo qua per manifestare il nostro diritto alla nostra terra. Tu immagina di svegliarti e scoprire che la tua casa è stata bombardata. Vedi sotto i tuoi figli, sotto le macerie. Vedi palestinese, palestina libera! E chi uccide sotto le bombe i nostri fratelli e le nostre sorelle della strista di Gaggia. Faccio a nome dei palestinesi un appello alle istituzioni locali e nazionali a prendere parola su ciò che sta avvenendo da troppo tempo in Palestina e a fare pressione sulle istituzioni internazionali affinché Israele smetta di bombardare i civili della striscia di Gaza e accetti l'esistenza del popolo palestinese che da sempre e da sempre abita quella terra. Quello che sta succedendo nel quartiere di Sheikh Jarrah va avanti da decenni. Sheikh Jarrah è un quartiere nei territori occupati di Gerusalemme Est che secondo per il diritto internazionale e di amministrazione palestinese. Palestina libera, palestina libera, palestina libera, palestina libera! Molion che vittorare, palestina libera! Grazie a tutti